Sfai incontri Ma è prima che c'è del lino del contatore Sfai incontri A me è appena Ma mi è appena Ma il caso è perfetto Sfai incontri Sfai incontri Sfai incontri Non è che si è rinforzata Che fa il suo nome È sempre il senato Non è che altrimenti è una pezza di giasta la città, la città, la città, la città, la città. Se la città non è troppo in casa così, e se non si stoppa non andiamo in minima, non andiamo in passare o a farla in gara, la città è la città, la città è la città, e la città è la città, e la città è la città. E quindi c'è il nervato che deve prendere questo qua. Arcemente. E invece amalgamare ci Winch, una città, una città, un po' che ha toccato, il nervato perché la città è la città è la città. Qui è la�, il mio teatro ha a creesh di fronte, una città, come è così? non può essere... non è possibile... per essere che è stato pavolto a lei... per un problema mio... ma non è possibile! io so... lei ha morto in una macchina... è una roba scena... non posso... non mi ammelo mai! lei ha morto in una macchina... lei ha morto in una macchina... è morto in una macchina... Ehi, guarda, guarda, guarda. tutti e ciò qua perché non è nipota che sia Nowakba! O che stai? O che stai? Vai giù udia? ooooooooooo ooooooooo otre e mi stai beh sta ora e mi stai. otre e qui sta ora e sto ora e sto ora torno, che non c'è non c'è molto molto molto? e non c'è qui è qui. E' così lì, che vedi. E' allora adesso vedi la voce? Allora? No! No! Grazie a tutti.